Scommetto che in questo momento vi state domandando Ehi, ma che fine ha fatto l'imperatore? Bene, bene, boom, baby! Qui l'imperatore Cusco, in diretta via satellite dal palazzo! Vale, Cusco! No, no, vi prego, non siate così servili! Ormai non sono più quel tipo di persona, ora sono simpatico! L'avete visto il primo film? Sì, un mio ritratto di dieci metri! Oh, adoro quel film, anche perché parla sempre di me! Bene, adesso tocca... Tocca a Cronk e stare al centro dell'attenzione! Ve lo spiegherò in parole semplici! Quello che vedete è il suo film! Non è il mio film! È il suo film! Non è il mio! È il suo! Non mio! Suo mio! Chiaro adesso? Anche per i piccoli? Perfetto! Allora ci rivediamo più tardi! Ruminate popcorn, sorseggiate un sorbetto a sorsetti! E tutti i vostri posti! Azione! Ma sta zitta! Uh, si può essere più fuori di testa! Fuori! Avete già capito che sta succedendo, vero? Vi do un indizio! Un po' di fango di fogna, una bella bottiglietta, una risata folle da diavolessa... È una patacca! La sua pozione è finta! Sta vendendo aria fritta, amici miei! Svegliatevi! Oh, l'avevate già capito, eh? Bene, furbastri! Scommetto che non avete capito questo! Oh! Aiuto! Lo ritroverò nei miei incubi peggiori! Possiamo andare avanti, per favore? Ehi, proiezionista! Andiamo! Aveva trovato l'amore della sua vita! Sono troppo commosso! Mi lasciate un attimo da solo, grazie! Giratevi! Ok, ok! Ora va meglio! Coraggio, tornate a divertirvi! Io vi sto entristendo! Visto come mi sono intrufolato nel film, non male! Cusco! Come va a cronca il caldo? Caldo?